ciao a tutti e bentornati a questo secondo appuntamento di in fai d'auto in questo video vi mostro come realizzare tristezza prima di tutto ho stesso il gel di passione unghie royal blu è lasciato catalizzare poi lo stesso il top finish uv ilac della peggisage ed è una sigillante per semi permanente successivo lasciato catalizzare successivamente ho sgrassato e opacizzato per far aderire meglio il meglio l'acrilico poi ho iniziato disegnando a matita questo è facoltativo e l'ho fatto per aiutarmi nella realizzazione del disegno e ho disegnato tristezza poi sono andata a ricalcare prima i bordi con l'acrilico nero e successivamente li ho riempiti grazie a tutti 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 grazie a tutti